Ciao a tutti ragazzi, io sono Silla e oggi volevo parlarvi delle leggi più assurde nel mondo. In Irlanda la legge impone agli abitanti di non costruire le proprie abitazioni sui terreni dei folletti. Cosa? In Francia non si può dare a un maiale il nome di Napoleone. In Indonesia chi si masturba è punito con la decapitazione. Tutti morti. Morire nel Parlamento Britannico è considerato reato. Dire ciao morti, no aspetta che esco dal Parlamento, due secondi siamo in posto eh. A Seattle sono proibiti lecca lecca. Mamma mi compro lecca lecca. No, sono evitati qua. In Svizzera è evitato tirare l'acqua dopo le 22. E ora rivolgete un pensiero a tutte quelle persone che alle 10 e mezza faranno la cacca e non potranno tirare l'acqua. In Texas è evitato vendere l'occhio a qualcun altro. 50 dollari per un occhio! In Virginia non si possono cacciare animali la domenica. A eccezione dei procioni. Bene ragazzi, spero anche questo video vi sia piaciuto. Ciao a tutti!